Dal Vangelo di Matteo Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. «Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi, subito, lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi, subito, lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla terza domenica del tempo ordinario, quella che Papa Francesco ha voluto diventasse la domenica della parola, proprio perché nel Vangelo che ci è stato proclamato si parla di Gesù che insegna, di Gesù che annuncia il Vangelo, e anche della chiamata dei primi discepoli, dei primi apostoli, sulle rive del mare di Galilea. Chiamata che porta queste persone, che di mestiere facevano i pescatori, a diventare pescatori di uomini, quindi non a cambiare totalmente il mestiere della loro vita, ma a trasformarlo. Non più pescatori di pesci, che traevano dall'acqua perché potessero essere fonte per la loro vita, ma che inevitabilmente morivano, ma pescatori di uomini, che traevano fuori dal mare del male, del peccato, di tutto ciò che rende inumana la nostra esistenza, per dare loro una vita nuova, una vita vera, una vita piena. Il ministero di Gesù comincia dalla Galilea, in cui lui era tornato dopo il battesimo ricevuto da Giovanni, dopo che Giovanni lo aveva riconosciuto come l'agnello di Dio e lo aveva indicato al mondo come colui che toglie il peccato del mondo. Gesù torna in Galilea, nella sua città di Nazareth, ma non resta lì a continuare il mestiere del papà, facendo il carpentiere. Lascia la sua città di origine, Nazareth, e si dirige verso Cafarnau, una cittadina sulle rive del mare di Genezareth o mare di Galilea, che era sul confine, per cui aveva anche una dogana e in essa c'era anche un discreto commercio. Le persone lì erano di tante razze, avevano tante filosofie e tante religioni di riferimento e una mentalità più aperta rispetto ai concittadini di Nazareth. Qui a Cafarnau, nel porto di Cafarnau, Gesù comincia la sua vita pubblica. Questo è il motivo per cui siamo nel porto di Ortona, con alle spalle le barche dei nostri pescatori e anche la statua di Sant'Ommaso, che ci ricorda l'arrivo di uno degli apostoli di Gesù, le cui ossa sono conservate e custodite nella nostra cattedrale di Ortona. Il mare di Galilea immediatamente ci fa pensare al Mar Rosso, il mare che gli ebrei hanno dovuto attraversare per lasciarsi alle spalle la schiavitù degli egiziani e trovare la libertà. Gesù, che chiama sulle rive del mare, vuole indicarci che la nostra vita deve andare verso la vera libertà, che è lasciare la schiavitù del peccato, di una vita non pienamente umana. Su questo lago, su questo mare, Gesù incontra due coppie di fratelli. Prima Pietro ed Andrea, poi Giacomo e Giovanni. I primi stavano gettando le reti in mare, gli altri, insieme con il loro padre, sulla barca, stavano rassettando le reti, le stavano aggiustando. Questo a simboleggiare che il Signore può chiamarci in ogni momento della nostra vita. Quando siamo nel pieno della nostra attività, nel pieno delle nostre forze, o anche quando ci troviamo in un momento di fermo, in un momento di stanca, o in un momento di recupero, anche per degli errori che possiamo aver fatto. Non c'è luogo, non c'è tempo che impedisca al Signore di chiamarci. La caratteristica di queste due coppie di fratelli è la prontezza. Subito lasciano le reti, subito lasciano la barca, subito lasciano il padre e seguono Gesù. Le reti che noi dobbiamo lasciare sono le reti delle nostre paure. Le reti che dobbiamo lasciare sono le reti dei nostri compromessi, le reti dell'ingiustizia, le reti delle furbizie che a volte ci costringono a fare cose che non sono degne di un essere umano. La barca che dobbiamo lasciare è la barca del passato, la barca del peccato. Il padre che dobbiamo lasciare è il si è sempre fatto così, il rispetto di tradizioni che non hanno più motivo di esistere. E seguire immediatamente il Signore che come accennavo trasforma radicalmente la nostra vita. E Gesù è con poche parole che ci chiede di seguirlo. Convertitevi, il Regno dei Cieli è vicino. E la nostra attenzione deve essere presa dal Regno dei Cieli che è vicino. Il nostro Dio è un Dio che si è fatto uomo, è un Dio che ci viene a disturbare, per così dire a suonare al citofono di casa nostra. Viene a toglierci dal divano nel quale ci eravamo seduti col telecomando in mano per chiederci un impegno diverso nella nostra vita. A volte è più facile avere a che fare con un Dio lontano che sta sulle nuvole. Il nostro Dio si è fatto nostro fratello. Il nostro Dio cammina insieme con noi. Appunto, ci disturba. Ci chiede di prendere in mano la nostra vita e di orientarla diversamente. Ecco il messaggio che dobbiamo prendere. Perciò la conversione che il Signore ci chiede è un accorgerci della sua presenza e un decidere di seguirlo. Proprio come fecero Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Insieme con Gesù loro iniziano una nuova avventura. L'avventura che anch'io e anche voi siamo chiamati a intraprendere. Perché la chiamata non è specifica soltanto per i sacerdoti, per i religiosi, per le suore. La chiamata è per tutti. È per tutti gli uomini e le donne. È per tutti i battezzati. È chiamata a dare una luce nuova alla vita. Quella luce che Gesù è venuto ad accendere realizzando così la profezia di Isaia di cui ci ha parlato l'Evangelista Matteo proprio nelle prime righe della pagina che abbiamo ascoltato. Seguendo Gesù saremo chiamati a fare le cose di Gesù. In questo momento Gesù non è seduto ad insegnare come un maestro ma è in piedi e ci invita ad andare dietro di Lui. Parla più col suo esempio che con le sue parole. E l'Evangelista in tre verbi sintetizza tutta l'opera di Gesù. Gesù insegna. Io e voi siamo chiamati ad insegnare ad accendere la luce nella nostra vita e nella vita delle persone che incontreremo perché la luce di Gesù la luce del Vangelo possano brillare nelle tenebre della nostra esistenza. Siamo chiamati a insegnare a lasciare il segno di una vita trasformata dall'amicizia con Gesù. E poi siamo chiamati ad annunciare il Vangelo. Vangelo è buona notizia buona novella come si chiama la nostra rubrica e la buona novella è che Dio ci ama ci ama comunque ci ama sempre ci ama tutti a prescindere dal nostro comportamento e dalla nostra risposta. tante religioni ci dicono che Dio esiste che si rivolge agli uomini ma ci dicono anche che si rivolge ai buoni per premiarli ai cattivi per punirli. Gesù ci presenta un Dio con il volto di padre con il cuore di madre che ama tutti quanti senza fare distinzioni di persone e infine dopo aver annunciato questa buona notizia siamo chiamati a curare anzi a prenderci cura di tutte le persone che incontriamo sul nostro cammino ad aiutare le persone a liberarsi dalle loro malattie dalle loro infermità da ciò che rende traballante la loro vita da ciò che rende malata la loro esistenza certo i miracoli li può fare solo il Signore ma prenderci cura mettendoci a disposizione servendo i fratelli e le sorelle questo possiamo farlo tutti questo il Signore ci chiede buona avventura alla sequela di Cristo sulle strade del mondo do do il do 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 Grazie a tutti.